Questa è la storia di una cittadina che voleva farsi grande e c'è riuscita. Olbia, la porta d'ingresso alla costa smeralda, 56 mila abitanti, 21 quartieri, 17 dei quali abusivi, poi condonati, ovvero più dell'80% della città fuori norma vittima del mattone selvaggio. Qui in 50 anni la popolazione è triplicata, complice anche il turismo della vicinissima Metavip. L'uomo del mattone di Olbia per molti ha la faccia di settimo Nizi, sindaco per dieci anni fino al 2007, fedelissimo di Berlusconi di cui è anche stato medico ortopedico, tanto da correre una notte a Villa Certosa per visitare Mamma Rosa. Una politica improntata sull'idea delle mani libere sarà lui a dare il via a ben 17 piani di risanamento e poi ancora varianti, ordinanze su misura, lottizzazioni in un territorio, quello della piana di Olbia, già difficile da un punto di vista idrogeologico, come ha mostrato il nubifragio di due giorni fa, con situazioni limite, come quella di Pittulongu, una collina che scende su uno stagno e tutto intorno, case e costruzioni. Ma la questione del mattone è facile anche altri responsabili, secondo per esempio le associazioni ambientaliste che da anni combattono contro lo scempio edilizio sardo. La situazione in tutta l'isola peggiora con la legge regionale del 23 ottobre del 2009, a firma dell'attuale governatore Cappellacci sul piano casa. Ad Olbia è stato praticamente realizzato un vero e proprio agglomerato di quartieri, originariamente in buona parte abusivi e poi condonati grazie al condone edilizio degli anni passati, che circonda praticamente l'originario centro urbano. Ma dove sono stati realizzati questi quartieri, spesso e volentieri, in zone che costituivano implumi naturali, zone dove c'erano già corsi d'acqua con la presenza di canali. Un far west urbanistico in una realtà dove ci sono 15.000 appartamenti in cerca di acquirenti, una città quasi interamente abusiva ma che di fatto è stata quasi tutta sanata. Renato Soru, l'ex governatore...